Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Andrea Giambruno si trova nuovamente al centro di una tempesta nel caotico mondo del giornalismo televisivo italiano. Un nuovo capitolo si apre con l'ascesa di Giuseppe Brindisi, il quale assume il ruolo di conduttore di Diario del Giorno su Rete 4, sostituendo Giambruno dopo il suo coinvolgimento controverso nei fuori onda di Striscia la notizia. Giuseppe Brindisi, già noto per la sua partecipazione a Zona Bianca, è già entrato in scena come conduttore di Diario del Giorno dal pomeriggio di oggi 15 gennaio. Con oltre 30 anni di esperienza in Mediaset, Brindisi affronta con un mix di cautela e sicurezza la possibilità di incappare negli stessi problemi del suo predecessore. In un'intervista alla press, riflette sulla sua lunga carriera e sul rispetto che nutre per Antonio Ricci, pur ammettendo la possibilità di essere colto in fallo in momenti di tensione durante le dirette. Nel frattempo, Andrea Giambruno, dopo aver lasciato la conduzione di Diario del Giorno a seguito delle rivelazioni spiacevoli emerse dai fuori onda e la conseguente rottura con la premier Giorgia Meloni, sembra puntare al ritorno in video, aspirando a un ruolo più rilevante come la conduzione di un telegiornale. Tuttavia, sembra che Pier Silvio Berlusconi, al timone di Mediaset, stia procedendo con prudenza, lasciando Giambruno in una posizione di attesa senza cambiamenti immediati. In questo scenario carico di aspettative e speculazioni, Giuseppe Brindisi si avvia a prendere il timone di Diario del Giorno, mentre il pubblico e il mondo del giornalismo osservano con attenzione, in attesa di vedere come si evolverà questa nuova fase della televisione italiana.